La modalità mercenari è o sarà pay to win? Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale, amici miei. Questo è quello che dovrebbe essere il terzo video riguardante l'economia della modalità mercenari. Siamo peraltro in una pagina che dice tutto di questa modalità probabilmente. Ma in questi giorni sto passando ore su Reddit, sui vari siti che adesso vi rivelo e che vi lascio anche in descrizione per capirne di più riguardo la parte economica della modalità mercenari. Fermo restando che vi invito caldamente a lasciarmi un commento, un like o una condivisione se questo video vi piace e anzi vi chiedo, vi piacerebbe vedere un video riguardante tutti i mercenari che conosciamo finora? Sono 57, ne conosciamo una ventina, vi faccio vedere le abilità, gli equipaggiamenti, le loro statistiche, tutti i mercenari. Se volete il video fatemelo sapere nei commenti, basta dire si Poli fa il video per esempio. Allora ragazzi, questo video che è il terzo per la spiegazione della modalità mercenari riguarda l'economia. La domanda ovviamente è molto baitosa perché apparentemente la modalità mercenari sembra molto molto pay to win. Però vorrei andare ad analizzare meglio i dettagli che abbiamo. Allora, ovviamente la presentazione di Blizzard è stata una merda astronomica e schiacciarsi in faccia a questi tre bundle senza neanche farci vedere il gameplay durante la presentazione che io vi ho già spiegato nel video di ieri che vi invito di andare a visionare, ovviamente è stato da perfetti coglioni. Però c'è da dire che in realtà si sa molto di più di il fatto che si spendono 50 euro per un bundle, 50 euro per un altro bundle e 30 per un altro bundle ancora. E allora partiamo da un presupposto. Questi bundle che voi state vedendo in questa schermata non sono cose esclusive. Cioè, tutto quello che trovate in questi bundle, per quello che ci è dato sapere finora, si può tranquillamente sboostare nelle buste che acquisterete solamente dopo il rilascio della modalità mercenari, cioè dal 12 ottobre in poi. Quindi, se a voi vi piace un sacco Diablo, Diamante, Sylvanas, eccetera, non preoccupatevi, queste cose non siete obbligati a shopparle perché le potete tranquillamente trovare, esattamente come le leggendarie, nei pre-order di Hearthstone regolare. Quindi, partendo dal presupposto che i pre-order non sono obbligatori perché non danno niente di unico, i pre-order servono per partire nella modalità mercenari in gamba tesa. Fermo restando che, alla fine di questo video vi darò un consiglio su cosa shoppare, vi consiglio di farlo con gli Amazon Coins. Il link è in descrizione, invece di 50 euro li piegate 42, risparmiate il 20%, ovviamente non fatevi sfuggire l'occasione di risparmiare soldi in questo pre-order, se le vostre intenzioni ci sono. E vi do un consiglio prima di arrivare alla fine del video. A parte che, vabbè, il consiglio ve lo ho da adesso, scegliete o Leech King o Diablo, questo secondo me è uno dei pre-order più comodi, semplicemente perché con 42 euro avete un sacco di roba. Ma per la prima volta in assoluto vi extra maxi sconsiglio l'acquisto di tutte e tre i bundle. Primo per il prezzo, che è proibitivo, 130 euro, anche quegli Amazon Coins sono 110 probabilmente ed è veramente tanto, anche perché se voi avete tutti i mercenari e un sacco di monete, probabilmente perdereste l'interesse nel farmare le taglie in PvE, vedetevi video di ieri per capire di cosa stiamo parlando, perché effettivamente avreste già tutto, avreste già i mercenari molto grossi e diventa semplicemente uno scacchi 2.0 dove ci sono sì le abilità, ma a quel punto il divertimento di farmare e di vedere crescere i mercenari mancherebbe. Io stesso per la prima volta non acquisterò tre bundle, ne acquisterò solamente uno, molto probabilmente. Quindi scegliete cosa vi piace più tra Diablo e Artas, consiglio personale, Diablo vedendo i mercenari, e ripeto fatemi sapere se volete un video a tema dei mercenari che conosciamo finora, è veramente molto molto forte. Allora andiamo con ordine però. Ce l'avevamo lasciati nel video di ieri con questa schermata delle bustine. Un buon samaritano, infatti aspettando questo buon samaritano, è andato a fare un paio di conti riguardante quello che si trovano nelle bustine della modalità mercenario. Ogni bustina costa 100 gold, esattamente come quelle di Hearthstone regolare, e all'interno di ogni bustina possiamo trovare probabilmente 4 monete mercenari, come vedete che servono per far livellare l'equipaggiamento di mercenari, come abbiamo visto nel video di ieri e le sue skill, oppure possiamo trovare un mercenario. Anzi, un mercenario è praticamente sempre garantito. Anzi, vi dirò di più, essendo che si trova sempre un leggendario almeno raro, e che i leggendari rari sono 12, comprando 12 bustine voi aumentate la vostra collezione di 12 nuovi mercenari. Inoltre nelle prime 10 bustine è garantito un leggendario, e ogni 5 bustine un epico. Quindi andando a comprare 15 bustine con i gold, anche banalmente quando esce la modalità, vi portate a casa 8 mercenari gratuiti, che sono quelli che ci regalano, tutti rari, 2 epici e un leggendario. Direi che abbiamo già una collezione degna di nota, se abbiamo 15 leggendari, 15 mercenari, più altri 8 regalati, ne abbiamo 23 su 57, siamo al 35% dell'intera collezione di mercenari. Poi bisognerà farli se le ore di livello, ma quello è un altro conto. Infatti un ragazzo, in questo bellissimo articolo, che vi lascio ovviamente in descrizione, ha fatto un paio di conti riguardante quanto con 50 euro di pre-order, che ripeto sarebbero 42 su usate gli Amazon Coins, tutti i link in descrizione di questo video, andremo ad avere. Ed effettivamente ragazzi si avrebbero veramente un sacco di cose. Allora, a parte quello che vi ho detto, cioè se voi comprate solo 15 pacchetti avete quello, però comprandone 50, quindi spendendo 42 euro e solo 42 euro, ricordo, avete a disposizione 3 leggendari, perché 1 nelle prime 10 e poi 2 ogni 20 pacchetti, 10 epici, calcolate che gli epici sono 16, quindi quasi tutti, tutti rari e appunto vi mancherebbero 12 leggendari, che si sbusterebbero appunto ogni 20 pacchetti da lì in avanti. E a quanto riguarda invece le monete, che sono un'altra valuta molto importante, che servono per livellare i mercenari, le sue skill, le sue abilità, le sue equipaggiamenti, ne avremo 2400 di rare, sono veramente tante, 2000 di epiche e 1600 di leggendarie. Ovviamente le monete, sappiamo, sono ognuna proprietaria del mercenario, cioè se io trovo 100 monete di Leech King, non è che le posso far salire come se ne avessi 1600, però inevitabilmente se sbustiamo un leggendario, visto e considerato che le monete le troviamo di un po' tutti, ma soprattutto di quelli che già abbiamo, è molto facile che il mercenario che vogliamo, soprattutto se è epico o raro, riusciamo a portarlo a un livello abbastanza avanzato fin da subito. Ovviamente bisognerà comunque farmare il livello, perché il livello non si può acquistare, bisogna andare a giocare, bisogna fare le taglie, bisogna scellere di livello, e in questo modo otteniamo tanta roba. Quindi, dal punto di vista, bisogna shoppare? In realtà la risposta è no. Cioè, se volete partire bene, sì, 42 euro, io probabilmente ce li picco, perché so già che ci passerò tante ore su questa modalità. Però in realtà, vi ripeto, bastano 15 pacchetti, avete una collezione degna di nota. Poi, ovviamente, farmando, avrete le vostre ricompense. Infatti, un'altra cosa che Blizzard non ci ha detto, perché sono stati bravi a schiacciarci in faccia a triplo bundle, ma non ci hanno fatto vedere delle cose importanti. Io, infatti, ho recuperato un sacco di video dove vedo un sacco di ricompense relative alla modalità mercenaria. Vi li faccio vedere, poi, se mi ricordo, vi lascio in descrizione anche questi. Alla fine di ogni taglia, vedete, questo è il termine di una taglia, una volta che viene battuto il nemico, e vengono sconfitti tutti i nemici, ci viene data l'esperienza, quindi sappiamo che termina il livello, salgono di livelli mercenari, vedete, questa è la schermata con cui i mercenari si livellano e salgono di un livello all'altro fino a un massimo di 30, e alla fine si completa la mappa, cioè la taglia viene portata a termine, si apre quel baule, e all'interno di quel baule, ricordandovi che ogni run è gratuita, quindi potete farne mille al giorno e farmare un milione di cose al giorno, se siete molto bravi e avete molta voglia, sono presenti quattro pacchetti, in questo caso è una taglia di livello medio facile, in questi quattro pacchetti ci sono un totale di 25, 50, 80 monete, quindi voi ogni circa 15 minuti farmate 80 monete mercenario, e questo è già per esempio un ulteriore modo per farmare, 80 monete ogni 15 minuti fa sì che più o meno, sono 8, 16, 24, 32, sono 320 monete all'ora, se giocate, e sono tante, sono veramente tante, ma passiamo oltre, un'altra cosa che Blizzard non ci ha detto, perché hanno la merda nel cervello sostanzialmente, perché non me lo puoi non dire, è che le stesse ricompense derivanti dal villaggio, per chi non sapesse cos'è il villaggio, vedetevi il video di ieri, possono dare di mercenari, questo è un esempio, questa era una ricompensa di una quest giornaliera, giornaliera, cioè quest che arrivano gratis, e la ricompensa è dopo aver ucciso un nemico di taglia molto facile, peraltro perché è uno dei primi livelli, le Barrens è un mercenario raro, per carità è un mercenario raro, però ero cara, è un mercenario in più che possiamo aggiungere alla nostra collezione, e poi eventualmente livellarlo, livellare e farli salire in realtà è facile, come vedete in questo video che vi ho appena mostrato, vengono dati prevalentemente monete di mercenari che abbiamo portato nel nostro cammino, le monete, in questo caso no, perché vabbè questa sarà ancora in test, però c'è stato detto che prevalentemente le ricompense che avremo al termine di ogni taglia, sono le relativi ai mercenari che ci siamo portati a presso, quindi se io mi porto a presso, Roccara, Brukan e Cariel, è molto facile che la ricompensa finale sia appunto Cariel, Roccara e Brukan, e magari monete di un altro mercenario, che in quel momento non ho, questo per farvi capire che poi far salire un livellare, far salire e livellare un mercenario, basta semplicemente giocare. Un'altra cosa ancora, che Blizzard poi non ci ha detto e che ho sgamato oggi, ecco purtroppo per questo non ho uno screenshot, spero di ricordarmelo, ve lo metto in descrizione, o ce l'ho, forse ce l'ho, vediamo se è qui un attimo solo, perché ho vari documenti vedete aperti, mi sto indagando molto, ah, questo è per quanto riguarda il PvE, mentre il cane mi lecca i piedi. Il PvP, scusate, che ricordo essere una cosa completamente extra, non siete obbligati a farla, ogni giorno, letteralmente ogni giorno, una volta al giorno, per aver fatto una partita, non aver vinto, per aver fatto una partita, proprio come le Daily Quest di Arsenal regolare, vi viene dato al suo interno, mentre esplode il di volume, scusate, 5 pacchetti, questi 5 pacchetti, ripeto, ogni giorno, contengono 350 monete mercenario, se non sbaglio, il calcolo che avevo fatto è quello, di cui prevalentemente, quelli con cui abbiamo fatto il PvP, in quell'esatto momento. Ogni giorno abbiamo 350 monete mercenario, più abbiamo le ricompense gratuite, che ci vengono date dalle missioni, e più le missioni. Le missioni, ragazzi, lì bisognerà analizzare bene come si evolve, l'edificio relativo alle missioni, è un altro edificio nel quale ci vengono regalate, più Daily Quest al giorno, e le Daily Quest danno 90, 100 monete ciascuna, e considerando che un'abilità, o un equipaggiamento, ci vogliono dalle 50 in su monete, per farlo sellere di livello, in realtà, banalmente, con un po' di culo, perché i mercenari sono 57, però, bisogna avere un po' di culo e di farm, in realtà, massimizzare un mercenario, è più semplice del previsto, molto più semplice del previsto, e questa cosa, quindi, Blizzard doveva dircela, ovviamente non ce l'ha detta, perché sono dei coglioni. Quindi, se uno gioca un'ora al giorno, si fa tre taglie, le Daily Quest, e una partita PvP, in quell'ora al giorno, si farma qualcosa come 900, barra 1000 monete al giorno, semplicemente giocando un'ora, e dove, nel frattempo, stai facendo salire di livello i mercenari, ti fai le run, ti diverti, alla Slade Aspire, già abbiamo visto il gameplay, nel video di ieri. Un'altra cosa ancora, che ci tengo a dire, perché Blizzard anche qui, non ce lo dice, perché sono dei coglioni, è che ci sono delle Quest, dedicate per la modalità mercenari, che ho sgamato, peraltro, chi è nel mio gruppo sub di Telegram lo sa, che danno gold come ricompensa, c'è proprio una Quest che dice, fai 10 turni, e ti fornisce 100 gold, e attenzione, tu dici, eh vabbè, ma quella è una Quest del pass, no, perché il pass, sappiamo non avere quest, e le quest, che invece, ci danno esperienza per il pass, danno esperienza, non gold, quella era una missione, a tutti gli effetti, con un nome, di una missione, con l'obiettivo, e con la ricompensa in gold, quindi magari, la modalità mercenari, offre anche, insieme alle classiche monete, eccetera, eccetera, credo che il cane abbia pisciato, qui sotto, offre anche, eh, una, eh, una possibilità di guadagnare dei gold, semplicemente giocando, quindi, alla domanda, la modalità mercenari e pay to win, la risposta è, molto probabilmente no, almeno, per il PvE, assolutamente no, per il PvP, purtroppo ci dobbiamo fidare di blizzard, blizzard ci ha detto, che il PvP avviene, eh, attraverso l'edificio, della, dell'arena, eccolo qua, e questo edificio sappiamo, eh, che ci mette contro nemici, del nostro stesso livello, nella speranza che sia fatto bene, effettivamente no, non dovrebbe essere PvP, non dovrebbe essere pay to win, visto che i nostri avversari, sono al nostro stesso livello, nella verità, lo scopriremo solamente, il 12 ottobre, quando la modalità, effettivamente, verrà rilasciata, io, sto continuando ogni giorno, a recuperare informazioni, sui mercenari, ripeto, bazzi con reddit, sto creando, un sacco di documenti per me, perché la modalità, mi ispira veramente tanto, e non vedo l'ora di giocarla, da ottobre, dal 12 ottobre, io, ripeto, probabilmente, non vi consiglio, di fare tanti preorder, banalmente, perché se li fate tutti, avete, eh, tutta la collezione, perdete l'interesse nel giocare, secondo me, è anche bello giocare, sia per livellare i mercenari, sia per battere le taglie, più difficili, quelle leggendarie, che sono, molto molto difficili e complesse, sia anche per farmare, cioè, per il divertimento di farsi una run, e vedere i mercenari, che ogni volta, salgono di livello, e diventano più forti, quindi io vi sconsiglio, ripeto, l'acquisto di tutti e tra i bundle, nel migliore dei casi, ne comprate uno da 50, che con gli Amazon coins, link in descrizione, lo pagate 42, oppure, comprate quello di Sylvanas, giusto perché così, con 26 euro, con gli Amazon coins, anche lì avete una collezione, piuttosto invidiabile, fin da subito, quindi ragazzi, questo era un video più breve, ci tenevo a farlo, perché appunto, Blizzard ha fatto una presentazione, merdosa, ma in realtà, dati alla mano, l'economia della modalità, sembra molto ben strutturata, ben installata, ed effettivamente, piuttosto generosa, che sicuramente premia, chi gioca di più, ma non premia così tanto, chi effettivamente va a shoppare, anzi, forse per la prima volta, se shoppi troppo, perdi interesse, nel gioco in sé, fatemi sapere cosa ne pensate, ribadisco la domanda, fatta all'inizio del video, volete avere dei video riguardanti, tutti i mercenari che abbiamo, potrei anche darvi delle, delle piccole, come una sorta di card review, dei mercenari, fatemi sapere se volete questo contenuto, questo contenuto, noi ci diamo ogni giorno, in live su Twitch, ovviamente, sui, sui miei canali, link in descrizione, anche per quello, fate un salto nella descrizione del video, perché è pieno di link, riguardante l'economia, pareri, migliorie, tante cose che ancora non sapete, se avete domande, fatemele, perché sono un esperto della modalità, ancora prima che esca, e vi auguro quindi, un buon prossimo momento di giornata, ciao gente! Ciao gente!